weh non fare il magazzino muffito da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice CREATOR clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci XIUDERONE DAIE bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono XIUDER e ragazzi mamma mia quante novità sono state recuperate grattando di prepotenza fino agli ultimi file inseriti con la patch 10.20 di ieri mattina di Fortnite alcune cose le abbiamo ovviamente viste e le stiamo vivendo in game ad esempio la nuova città di Pandora rip putrido pantano tutti ci aspettavamo che arrivasse e invece ci hanno preso in giro mentre molte altre voglio invece dirvele io le più belle le più particolari nel video di oggi oltre a quello parleremo anche della nuova catastrofe in arrivo si ragazzi pazzesco presenti delle immagini in game di un evento di un qualcosa che sta per accadere e che ci chiediamo tutti che cos'è ovviamente ma parleremo anche di una collaborazione di Fortnite con Stephen King il regista di IT il capitolo però numero 2 quello in uscita nelle sale il 5 settembre vi faccio sentire degli audio che è ovviamente ragazzi una valla sbadilata di leaks per tenervi sempre aggiornati sul dietro le quinte del nostro Fortnite prima però volevo ringraziare di cuore tutti i ragazzi che utilizzano il codice creator Xiuderone grazie di cuore ragazzi per supportare il canale mi raccomando iscrivetevi in tantissimi e soprattutto attivate la campanella per non perdere nessuna notifica sui miei video e sulle mie live ma prima eiaio ve la devo ve la devo fare la domanda ma che non posso non farvela ragazzi la domanda di oggi è veramente molto semplice ringrazio anche per tutti i commenti in quella di ieri come ti è sembrata la patch 10.20 io ho detto la mia adesso ragazzi ditemi la vostra qua sotto nei commenti vi è piaciuta non vi è piaciuta una figata una cazzata una cagata ragazzi ditemi come vi è sembrata qua sotto nei commenti e magari perché state dicendo questo ma quindi ciancio alle bande e mando alle ciance andiamo subito subito ragazzi a vedere la prima immagine una delle cose che stavamo aspettando confermato il ritorno di Kevin in questi giorni nella patch 10.20 sono state inserite delle cose relative al cubo e per la precisione ragazzi parliamo dell'isola fluttuante arriva innanzitutto una schermata di caricamento l'avrete sicuramente già vista come vedete siamo a lande letali e c'è la versione femminile del contadino che guarda quest'isola che però non è proprio uguale all'isola che eravamo abituati a vedere nelle precedenti season come vedete là in alto e voglio farvi vedere intanto un bellissimo gameplay vediamo se riusciamo a pescarlo questo bellissimo gameplay che come al solito si fa un po i fatti suoi eccolo qua là in alto c'è il motel ragazzi sotto il cubo con l'isola come eravamo abituati a vederla season 6 se non ricordo male ma sopra il motel con ancora più in alto il logo del il logo la mascotte del durburger tutti siamo abituati a meglio tutti ci ricordiamo che questo è proprio il motel presente tra i passatempi pomposi e il come si chiama il crocevia del ciarpame la domanda è cosa cavolo ci fa sopra l'isola del cubo tra l'altro ragazzi non arriverà solamente l'isola con il motel sopra ma arriveranno anche delle sfide che ci regaleranno 3500 punti esperienza 30 stelline del pass battaglia e il loading screen che vi ho fatto vedere poco fa la prima sfida eliminazioni con il cecchino una kill sopravvivi agli avversari in solo o in duo fai danno con armi con il mirino ai tuoi avversari cerca cazze di munizioni alande letali o rifugio ritirato usa due diversi oggetti consumabili in un match a terra nella parte più alta dell'isola e sul meteorite non non credo in un singolo match penso che sia semplicemente due volte separate e per chiudere visita loot lake e scalini scatenati in un singolo match tra l'altro abbiamo anche altre immagini relative ma vi ho fatto vedere il gameplay alla nuova isola che quindi con tanto di sfide arriverà prestissimo su fortnite e potremo di nuovo risalutare kevin e andiamo avanti con il prossimo argomento ragazzi la catastrofe in arrivo su fortnite forse non lo sapete l'ho pubblicato ieri sera sulla pagina mia di instagram vi invito sempre a farci un salto che c'è solo fortnite le news le cose che non riesco a mettere nei video se voi cambiate la lingua di fortnite dall'italiano all'arabo appare nella sezione notizie il bundle psycho la bomba a scudo la polla a scudo e là in fondo un'immagine incredibile ve la voglio zoomare è questo punto esclamativo e tradotto in italiano vuol dire catastrofe quella scritta che c'era lì catastrofe in arrivo adesso o si associa questa cosa all'isola del cubo ma non lo so non ne sono tanto convinto o la domanda che ci facciamo è che cavolo sta per succedere vuoi dire che sia veramente l'evento ufficiale della season 10 se devo essere sincero volete la mia parola sincera secondo me non ci sarà un evento in questa season principalmente perché stanno stravolgendo la mappa con location uniche adesso è arrivata pandora che c'ha tutta la sua cosa insomma ragazzi se inserissero anche un evento sarebbe davvero tanta roba ma vi ricordo che nel video di dell'altro ieri vi avevo fatto vedere che a ai magazzini sarebbe apparso noi non lo abbiamo ancora visto in game ma io ve l'ho già fatto vedere il cerchio luminoso che potrebbe stare ad indicare il cambiamento di grandi magazzini potrebbe essere quella magari la location della catastrofe catastrofe ovviamente non lo possiamo sapere sappiamo solo che qualcosa succederà e staremo a vederla insieme andiamo avanti con il prossimo argomento ragazzi eccolo qua impossibile non riconoscerlo stiamo parlando ovviamente di it il pagliaccio che ha terrorizzato le generazioni degli anni 80 se non ricordo male con il primo video forse inizi anni 90 ora mi sfugge un attimo secondo me anni 80 capitolo di it l'anno scorso o due anni fa arriva come era già stato in realtà annunciato il chapter 2 quindi il capitolo 2 e sappiamo quasi certamente che fortnite p games farà una collaborazione con it perché dite che lo sappiamo perché vi voglio far sentire una cosa incredibile ragazzi dei file audio presenti proprio nei file di gioco della patch 10.20 beh ragazzi sono delle risate direi abbastanza inconfondibili somigliano veramente alle risate di it tra l'altro il 5 settembre come vi anticipavo fra pochissimi giorni uscirà proprio il capitolo 2 staremo a vedere se per caso ci sarà qualcosa di interessante io penso che dovremmo aspettarci davvero qualcosa di molto particolare e chiudiamo con il video ragazzi parlandovi della nuova zappertrap inserita nei file di gioco una nuova trappola per il battle royale io non so chi di voi giocava nella season 1 io ricordo che c'era ai tempi la trappola elettrica quella che adesso è presente ancora in salva al mondo molto probabilmente c'è ancora zappertrap ragazzi il nome ci lascia suggerire che si tratterà di qualcosa di elettrico una volta con con la trappola zapp si toglieva 150 140 ora non lo ricordo benissimo si piazza sulle pareti sul soffitto non sui pavimenti e appunto fulmina l'avversario in realtà gli toglie parecchio parecchio shield oppure la salute insomma ragazzi tante cose presenti in questa pace 10.20 piano piano che andranno avanti i giorni ve le farò vedere bene con calma ne parleremo sicuramente io per oggi vi ringrazio per avere guardato questo video un bel pollicione in su iscrivetevi al canale noi ci vediamo alle 8 in live ciao ciao